Nella città di Pesaro vengono denunciati sempre più furti in appartamenti e attività commerciali. Qual è la percezione dei cittadini pesaresi? Andiamo a chiederglielo. Mi trovo con un cittadino del quartiere di Pantano, Pantano che è stato palcoscenico in questi giorni di tantissimi furti. È vero, noi abbiamo subito un tentativo di un furto due o tre anni fa, non sono riusciti ad entrare quella volta. Comunque quello che manca è il controllo, quello che manca è i giudici che poi li buttano fuori, addirittura questi chiedono il risarcimento che è una cosa assurda e quindi queste sono le cose che mancano. Cioè mancano i poliziotti che controlla la zona e in più che le punizioni devono essere severe e farle a casa loro. Ecco, ad esempio nel quartiere di Pantano cosa bisognerebbe fare nello specifico? Cioè, appunto, bisognerebbe mettere, un posto di quartiere forse, o uno o due, che controllano la zona continuamente, ecco. In modo da prevenire, perché sono molte persone anziane che poverete sono sole, sono deboli, sono fragili e loro che osservano prima le cose vanno subito lì, capito? E questi poveretti si vedono ad entrare la gente, non possono fare niente. Quindi, ripeto, manca proprio le poliziotte, il controllo del territorio, ecco. E poi le pene severe, ripeto, pene severe, tutto qua. Non c'è controllo, non ci sono sia il comune che la pubblica sicurezza, che i vigili, tutto quanto. Non c'è mai nessuno in giro. E non c'è la certezza della pena, ecco. Lei ha mai subito un furto nel suo appartamento? Ho avuto un furto nel 2005, hanno preso tutto qua, ma lì c'era un problema, forse erano le badanti di mia madre, che erano in contatto, era morte mia madre, però c'erano delle badanti che hanno lavorato lì, quando io lavoravo a Roma, lavoravo al policlinico, quindi loro hanno visto tutto quanto, come era messo tutto quanto il caso, io stupido a non portarli in banca. Nel 2005, quando sono tornato, una mattina di stanza, sono tornato, la porta era aperta, però non avevano rotto niente, erano andate in mano sicuro, colpo sicuro. Ecco, e secondo lei cosa bisognerebbe fare nei quartieri soprattutto? C'era l'idea di mettere questa guardia fatta dai cittadini, ma non funzionerebbe neanche quello perché dopo vanno contro la legge, perché se prendono un lato e gli fanno qualcosa, loro vengono accusati di aver fatto qualcosa contro la legge, quindi ci vorrebbe più controllo da parte delle autorità. Lei ha messo dei sistemi d'allarme adesso nel suo appartamento? No, ho tre lucchetti e basta, nei sistemi d'allarme no, non c'è più niente, ha preso tutto, cosa rubano oramai? Tu hai mai subito dei furti ad esempio? Non ho subito furti, però ho fatto ronde notturne per conto mio sotto casa mia, sì, perché a Cattabrighe quando c'è stato il periodo un pochino caldo ho detto aspetta un attimo, fammi andare, un paio ne ho fatti fuggire. Ma come ti sei organizzato a fare queste ronde notturne? No, non mi sono organizzato, sono stato sveglio e ho dato un'occhiata, perché spesso volontieri mi sono accorto che molti di questi ladruncoli sono con un urlaccio, insomma, sono ladri che magari aprono un garage per prendere anche una mela, ecco, quindi con un urlo mi è capitato di riuscire a mandarli via, davanti a casa mia ho beccato qualcuno che voleva entrare dal mio visione di casa. In che orario era? Che orario hai fatto queste cose? Di notte, di notte, sì, sì, due o tre di notte. E adesso a Cattabrighe ci sono stati altri furti ultimamente? Che sappia io? Ultimamente no, ho visto che prendono di mira comunque zone periodicamente, insomma. Ultimamente mi pare di no, ho sentito questi giorni di altre zone. Secondo te cosa bisognerebbe fare, oltre a mettere magari sistemi d'allarme? Non lo so, è molto difficile, perché comunque le forze di polizia hanno le mani abbastanza legate e in tutti i casi sono proprio poveri di uomini, quindi bisognerebbe andare a fondo e avere un'organizzazione completamente diversa, secondo me. Nel modo di avere pattuglia uomini, ma così, occhi e cruci mi pare abbastanza impossibile, perché è una strada che a livello nazionale non può percorrere nessuno. E secondo lei cosa bisognerebbe fare? Non ho la più pari idea, ma più controllo, più, come si dice, un po' più, sì, controllare, vigilare, la sera, quando si torna a casa uno ha paura, si deve guardare in tutti gli angoli, se c'è dentro qualcuno che ti può... Qui ad esempio nel centro lei vorrebbe mettere più illuminazione o secondo lei... Senz'altro, senza altro, questo è fondamentale in alcuni punti, in modo particolare, insomma, no? Ha adottato dei sistemi d'allarme oppure... Sì, 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 senza altro, non si può non farlo, in questo momento proprio è così. Siamo un pochino preoccupati. Lei ha mai subito furti? No, ringraziando Dio no. Secondo lei cosa bisognerebbe fare in città per evitarli? Ma in città, non lo so, penso che abbiano fatto il massimo, perché adesso è molto illuminata, la polizia passa molto, quindi è sorvegliata la città. Ci sono cose che non si possono evitare, d'altra parte non si può fare più di tanto, insomma, cioè non si può blindare una città, però, insomma, a Pesaro si vive abbastanza bene. Mi trovo all'interno del tabacchi Casoli, che si trova proprio qui nel centro storico di Pesaro. Lei ha subito un tentativo di furto? Furto, sì, nel mese di giugno di quest'anno, del 2017. Cosa ha notato appena è entrato nell'attività? Ma niente di particolare, questa persona era entrata, mi ha minacciato, che voleva l'incasso, io un attimo ho reagito e la persona è fuggita, e poi dopo la polizia l'ha arrestato. Quindi, insomma, ha avuto sicuramente tantissima paura? Tanta paura, sì, però abbiamo reagito, è andata tutto bene. Secondo lei, soprattutto per quanto riguarda anche le attività commerciali nel centro storico, comunque nella città di Pesaro, che cosa bisognerebbe fare? Io posso dire che qui è ben sorvegliata, dalla polizia e dalla questura. Abbiamo il vantaggio che c'è la questura qui vicino, per cui diciamo, io mi sento abbastanza sicuro qui dentro. Poi dopo, come in tutte le cose di persone poco preparate, che vogliono fare del male, ce ne sono tante. Invece per quanto riguarda l'appartamento, quindi furti in appartamento, ha delle cose da segnalare? No, assolutamente no, no, noi sono abbastanza, diciamo, sento sempre altri che hanno ricevuto queste cose, si pensa, io quando l'ho ricevuto qui ho avuto paura, però diciamo che è stato un fatto isolato, speriamo, insomma, poi dopo. Ma adesso ultimamente ci sono parecchi furti. Cosa bisognerebbe fare, ad esempio, nelle case per non far entrare i ladri? Eh, guarda, sì, allarme, ma se vogliono entrano comunque, non è che passa il sistema d'allarme. Lei che percezione ha di sicurezza in questa città? La sicurezza sì, c'è, per carità, il problema sono i ladri ultimamente, se no la sicurezza sì, non ci sono problemi. Abbiamo abbastanza timore dell'aumento della violenza, dei furti, neanche in casa si sta più sicuri, essendo dentro può succedere sempre qualche cosa. Lei ha mai subito un furto? Per fortuna no. E secondo lei cosa bisognerebbe fare in città per essere più sicuri, insomma? Intanto aumenterei il numero dei vigili e della polizia. Secondo me sono indispensabili, dovrebbero pattugliare costantemente certe zone soprattutto. E poi, perché no, anche qualche telecamera in più non fa mai male. Ci sono stati un po' di furti ultimamente in vari quartieri di Pesaro, nel suo quartiere ce ne sono stati? Nel quartiere non veramente, non tanti, insomma. In che quartiere abita? Io abito a zona Ledimar. Lei ha dei sistemi d'allarme? Sì, ho dei sistemi d'allarme. Quindi la percezione si sente piuttosto sicura? Oddio, sì, abbastanza sicura, non proprio totalmente, però abbastanza sicura. Ci sono situazioni peggiori nei quartieri vicini. Il centro storico ancora un pochettino si salva a livello di furti. A livello di sicurezza personale invece no. Ho un sacco di persone che sono state derubate, semi-aggredite. Addirittura aggredite all'interno dell'abitazione? No, no, no. Diciamo nei parcheggi. Perché ci sono delle zone qui dove sono mal frequentate e quindi parcheggiare lì è diventato la sera soprattutto pericoloso. Quali zone? Ormai sono le classiche vicino alla ferrovia, vicino alla stazione. Ecco, qui visto che lei ha un'attività nel centro storico di Pesaro, sicuramente avrà tanti clienti che tra un caffè e l'altro racconteranno appunto delle disavventure, quindi ladri in appartamento. Sono venuto a sapere di questo proprio dai clienti che ci raccontano le cose. Noi stiamo sempre qui dentro, quindi... Quindi lei ha la percezione, così come un altro commerciante, che il centro storico comunque sia abbastanza sicuro per quanto riguarda le attività e anche i furti in appartamento? Per adesso sì, non ho saputo, non ho sentito altro. Nel suo quartiere invece? Un giorno sì, un giorno no, ci sono i furti. Che quartiere è? Loreto. Ah, Loreto. Loreto, Pantano e un macello. Cosa bisognerebbe fare in questi quartieri? Non mi pronuncio, non lo so e non voglio esprimermi un'opinione, quello no. È un po' deludente, diciamo. Lei ha mai subito furti? Fortunatamente no. Nel suo quartiere ce ne sono stati? Sì, decisamente sì. A periodi chiaramente si intensificano più o meno, ma insomma ce ne so. Secondo lei cosa bisognerebbe fare nei vari quartieri di Pesaro? Intensificare la vigilanza, ma purtroppo mancano gli addetti, di conseguenza prendiamo quello che è per casa. Vi ricordiamo che è importantissimo segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi movimento sospetto che vedete presso le vostre abitazioni. Inoltre esiste da qualche tempo una pagina Facebook che si chiama SOS Furti Pesaro, dove potete denunciare eventuali furti. Inoltre esiste da qualche tempo una pagina Facebook che si chiama SOS Furti Pesaro.